Ehi, c'è Jackie. Ehi, Jackie, puoi darmi una mano? Il dottore dice che non devo sollevare carichi pesanti. Eh, non dovresti avere problemi, amico. Ehi, Jackie, sei pronto a fare la tua magia? Basta che mi dai la direzione giusta, Jimmy. Swiftie era al ristorante appena prima che scoppiasse il casino. Organizza partite di poker riservate nella sala da biliardo dietro l'angolo. Seguimi. Questo è territorio di Swiftie, Jackie. Non abbiamo molti amici da queste parti. E gli uomini che sono dentro con Swiftie non sono precisamente dei tipi amichevoli. Bene, perché anche a me non va di fare amicizia. Di avvinni che i ragazzi blocchino tutte le uscite. Nessuno esce vivo da qui se prima non ho avuto le mie risposte. D'accordo, Jackie. Jackie, eccoti qui. Oh, ehi, ciao, Jackie. Che belle scarpe. Sono di Picciottis? Baciami il culo. Sono vivo! Sono vivo! Sono vivo! Sono vivo! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 E adesso... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.